Grazie Vito per la presentazione, non credo di meritare tutte le belle cose che lui ha detto. Grazie veramente per l'invito. Quando ho pensato a cosa raccontarvi oggi e ho elaborato questo titolo, Inspiring Global Change, ho detto, va, titolo un po' forte forse. In realtà quello che ho visto oggi va esattamente in questa direzione e anzi forse è poca cosa il titolo che io avevo in mente, perché se è vero come è vero che le piccole storie fanno il cambiamento e fanno l'evoluzione della nostra specie, oggi abbiamo visto qualcosa di davvero straordinario. L'ispirazione mi è arrivata a questo ragionamento che voglio condividere con voi leggendo il manifesto di TED e in particolare ho trovato emozionante leggere parole come queste, cioè che l'obiettivo della giornata odierna è avvicinare persone e idee sotto l'auspicio che questo evento, in un momento storico come questo, possa essere un fattore decisivo per ispirare fiducia in un cambiamento profondo positivo. Credo che oggi come oggi l'essere umano abbia bisogno di questo cambiamento e abbia bisogno di positività, più che mai. Quello qui siamo sottoposti ogni giorno, lo vedete, lo sentite, lo sapete, è una gran mole di notizie negative e siccome mi piace essere concreta ho voluto provare a visivamente focalizzare questo digitando su Google Trends che è già stato raccontato da un precedente relatore, quindi non so spiegarvi cos'è, lo sapete tutti, è una sorta di focus group digitale che dà la sensibilità di quelle che sono le cose più ricercate in rete. Ho provato a digitare due richieste e ho chiesto al sistema dimmi quante notizie negative danno i media e quante notizie positive e questo è l'output, come vedete costantemente siamo sovrastati da notizie negative e questa non è una sorpresa. Lo step dopo che ho voluto fare è ma questo è quello che la gente vuole sentirsi dire e allora ho provato a cercare le parole positive thinking e negative thinking e questo è l'output. La barra blu dà la mole di notizie invece positive che la gente ricerca e la barra rossa dà l'idea delle notizie negative. Quindi in sintesi una buona notizia, cioè la gente non vuole negatività, vuole positività perché, e questo è vissuto di tutti, nella positività si cresce bene, si vive meglio. Ancora una volta mi piace dare concretezza a questo concetto. non so se conoscete Masaru Emoto, è un ricercatore giapponese che ha voluto fisicamente verificare come l'environment, il mondo in cui noi ci muoviamo, ci condizioni e cosa ha fatto? Ha provato a cristallizzare delle gocce d'acqua sottoponendole ad alcuni stimoli ambientali che hanno prodotto formati di cristalli diversi. Esempio, ha provato a cristallizzare dell'acqua mettendola in provette e sulla provetta scrivendo la parola grazie e questa è la forma di cristallo che ha ottenuto. L'ha fatto poi con la parola la felicità. Guardate come cambia la forma ed è sempre molto gradevole. Ha provato poi con la parola alchilio e guardate che tipo di output è arrivato. Ancora, verità, una bella forma armonica. Ha poi provato a lavorare anche con della musica e ha sottoposto la cristallizzazione a una colonna sonora, ad esempio di heavy metal. Questo è il risultato. Oppure ha la quarantesima sinfonia di Mozart e questo è il risultato. Perché questo è interessante? Perché se voi pensate che noi siamo al 60% composti di acqua, forse l'ambiente qualche cosa su di noi influisce. Ma non solo, ma se è vero che noi siamo influenzati dall'ambiente e dalle parole, pensate che responsabilità abbiamo noi stessi verso gli altri, noi stessi verso le persone con cui ci relazioniamo. E quindi quanto sia importante un evento come questo, che produce valore, produce positività, ma non solo per noi che siamo qui, ma anche per coloro che sono a distanza. E qui vi racconto velocemente una storia, che forse già conoscete, di alcuni ricercatori giapponesi. La storia della cosiddetta centesima scimmia, i quali hanno sostanzialmente fatto, a metà degli anni 50, delle analisi etologiche su delle tribù di scimmie che vivevano in isole del Giappone. E le risultanze sono state. Quando c'è un comportamento virtuoso che migliora la qualità della vita, viene immediatamente imitato dal branco. Quindi tipicamente questi scienziati lasciavano del cibo, delle patate, sulla spiaggia e quando le scimmie hanno cominciato a lavarle, quindi togliere la sabbia e quindi approfittare di questo cibo in maniera più gradevole, tutte le altre del gruppo hanno imitato il comportamento. Ma la cosa straordinaria è che questo comportamento è stato imitato anche da branchi che erano su altre isole, che non avevano il contatto con queste scimmie. come se ci fosse la capacità a distanza di trasferire informazione. Fantascienza, in effetti è stata molto contestata questa prova scientifica, ma in realtà il fatto di poter avere una sorta di comunicazione a distanza, ce lo testimoniano sostanzialmente due verità della fisica quantistica. La prima è il fenomeno dell'entanglement che ci racconta come quando esistono due particelle subatomiche che sono correlate tra di loro, quindi hanno sostanzialmente una sorta di gemellaggio e sono caratterizzate da movimentazioni di spin opposti, se queste particelle sono distanziate, si cambia il movimento di una, l'altra a distanza replica l'osmosi che c'era inizialmente. Quindi è come se si parlassero sostanzialmente. Del resto è abbastanza accettato che i gemelli, ad esempio, anche se sono a distanza, abbiano una sorta di forma di connessione. Per cui sono teorie in realtà che poi se le possiamo applicare anche nella nostra vita, cioè quante volte vi sarà capitato di pensare a una persona che non vedevate da tempo e poi casualmente la incontrate. Secondo recente scoperta che può in certo modo giustificarci se vogliamo pensare che siamo connessi oltre quello che si vede, è la scoperta del bosone di Higgs, che di fatto, essendo una sorta di ultima particella subatomica che crea materia, è la spiegazione teoricamente scientifica al cosiddetto vuoto quantico, che non sarebbe un vuoto quantico, ma sarebbe sostanzialmente una sorta di rete che tutto unisce e che tutto, diciamo di fatto, tiene insieme a livello di informazione. Quindi, in sostanza, noi abbiamo visto che tra di noi esseri umani ci condizioniamo, ma ci condizioniamo anche a distanza. Non solo, ma è come se esistesse una sorta di rete informativa che tutto connette e che agevola questo passaggio di informazione virtuosa. A me questo ricorda tanto il fenomeno della rete, quindi passando da qualcosa di un po' onirico, che è quello che vi ho raccontato fino ad ora, a qualcosa invece che la nostra vita ha vissuta quotidiana, pensate in fondo come la rete sia questa enorme, stupenda, straordinaria forma di connessione visibile che ci consente di diffondere informazioni, condividere, crescere e sostanzialmente trasferire know-how tra di noi. Quindi, perché è fondamentale e importante quello che stiamo vivendo oggi? Perché credo che generatori di pensiero positivo e condivisione di pensiero positivo sia un qualche cosa che crea un valore che va oltre il fatto di raccontarcelo, è un qualcosa veramente che aiuta a crescere tutti quanti. E a questo punto, giusto per coerenza, se la regia mi sostiene, vi inviterei a rileggere quel pezzo di manifesto di TED con cui ho iniziato il mio speech, perché credo che possa ispirarvi ancora di più e darvi ancora più senso del valore aggiunto che c'è in quello che stiamo vivendo oggi. Avvicinare persone e idee sotto l'auspicio che questo evento, in un momento storico come questo, possa essere un fattore decisivo per ispirare fiducia in un cambiamento profondo e positivo. Credo che l'applauso vada a tutti coloro che hanno portato delle testimonianze forti come quelle che abbiamo sentito oggi. Vi ringrazio. Grazie. Grazie a tutti.